Una parola per descrivere l'Aretopo? Aiuto! Ciao! Che fai? Sto finendo l'Aretopo, penso, ma non si sa mai Pensi che la stai finendo o pensi che stia venendo bene? Allora no, vedo che stia venendo bene, mi sta piacendo Ah, non è venuta male, dai! Hai triangoli nella tua Aretopo? Sei stato prontissimo a rispondere a queste cose? L'abbiamo controllato stamattina Quindi tutto a posto Questo è un Aretopo fatto bene, guarda Dai! Dai, però nel complesso No, questo era il buco tipo, no Non si può dire Non si può dire Guarda, lui invece è uno che sta facendo una bella Aretopo Una tartaruga ninja Sto facendo Aretopo Caccia Ah, ma quindi non sei felice di fare Aretopo Sei uno di quelli non felici di fare Aretopo Ma detto così, per fare Aretopo ho dovuto ricercare immagini di piedi femminili Adesso questa cosa è su da cronologia di questo computer Ok, anche su YouTube Poi? Come sta avvenendo? Potrebbe andare peggio Quindi ci sta Ci stiamo Ci state Ci facciamo stare Ci sono triangoli in questa No Sei sicura? Si Hai controllato? Si Ci sono pentagoni Può essere che sei meno triangoli Ma hanno quattro vertici Ma hanno quattro vertici Per cui comunque sono quadrati Ok Stiamo cercando di Non lasciare né pentagoni né triangoli sulla testa di questo povero tizio Che dovrebbe avere solo quadrati in testa Che però a quanto pare E non è E a quanto pare bisogna scegliere Mi sa che sceglieremo i triangoli Ok, bam Ce la stiamo facendo Forse Santino Lui fa da Santino, sì, sempre Cosa stai aspettando? Sto facendo un V E sto aspettando questo bel simbolo della morte qua Che faccio al suo corso Sto pensando tutte le cose Quando è stato l'ultima volta che ho salvato? Può essere stato dieci minuti fa Ma non può essere stato mezz'ora fa Quindi Bene Andre, tu cosa ne pensi? Dei... di traverti? Si E... ci si diverte Sto scherzando, no? Vabbè, vabbè Se sta andando bene L'importante è che ce la stai per fare Credo di sì Ok, ne parliamo poi il fine settimana Va bene Quasi finite, mancano le antenne da rifare Ah ah Vabbè dai, quelle sono facili, sono dei tubi Circa Quindi hai fatto tutta l'aeropo di tutto, tutto perfetto, low poly e... Sì, questo è un po' cittadino Hai dato un comandino che c'era in Maya Per fare l'aeropo Ahhhh Sto sistemando le UDIM E... per poi portarle su Substance e fare la parte di texture Non sono fatte bene oppure... cioè perché io vedo una linea? Eh, questo adesso... o la riscalo o la risetto Ciao, Amalia Adesso lo devo capire Hai fatto tutto il modello Sì sì sì, hai fatto tutto C'è anche l'ascia gigante, figo Sì sì sì, sono abbastanza contento Il momento dell'esplosione Il momento dell'esplosione Devi premere un tasto, è come il presidente degli Stati Uniti Presidente? Presidente? Non succede niente È un'esplosione molto lenta Oddio, sta succedendo qualcosa In realtà ci sono delle cose che si muovono qui